Ben? Son Riccardo, è in casa la Daniela? No Ah, è uscita? No Ah, volevo fargli l'augur del compleanno Yes Ah, ho capito, mi sa che sta facendo il tiramisù per la sua compleanno Yes Ah, ci siamo capiti, vabbè, la chiamo più tardi per fargli gli auguri No? Come mai? Oh Fai sempre lo spiritoso, dai, la calmo più tardi per fargli gli auguri, ciao, ciao L'avete visto? Noi uomini lottiamo, lottiamo, ma alla fine vengono sempre le donne Che ci vuoi? Noi uomini lottiamo, 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 lottiamo